L'Abruzzo domenica festeggia il patrono San Gabriele della Dolorata al santuario di Isola del Gran Sasso in provincia di Teramo. Si attendono pellegrini da tutta la regione e anche da altre località italiane che si daranno appuntamento per omaggiare il santo dei giovani. Il vescovo della diocesi di Teramo ed Atrimon, signor Michele Seccia, celebrerà la messa alle 11 e come di consueto una cinquantina tra sacerdoti e studenti passionisti saranno a disposizione dei pellegrini durante tutta la giornata. Alle 14 e 30 la compagnia teatrale di Carlo Tedeschi di Rimini metterà in scena il musical Gabriele della Dolorata, un silenzioso sospiro d'amore. Alle 17 poi ci sarà la processione dell'urna con le spoglie mortali del santo che sarà accompagnata per le vie della città dalle note della banda città del Gran Sasso. Successivamente si potrà anche ammirare una infiorata di 30 metri quadrati dedicata al santo che verrà sistemata nel porticato del nuovo santuario.